Benvenuto a Roma, anche complimenti per l'originalità del film. Poi la domanda, Persi è un ragazzo con molti debici, eppure riesce nella sua missione. Questo in qualche modo è l'ospettio delle difficoltà odierne del popolo americano? Do you think this is kind of the middle of the country, except for these things that people have to do? Yeah, well, I hope that we, I mean, I would be extremely hopeful that we end up there as a country. We're not there yet, so Persi is successful. We're not in a situation where we're anywhere near being successful, so Persi's journey is a little shorter than America's journey. Mi auguro, spererei che il paese, il nostro paese, finisse con raggiungere i risultati ottenuti da Persi. Diciamo che non ci siamo neanche vicini. Persi ha ottenuto un successo che l'America è ancora più lontana dall'ottenere. Diciamo che il viaggio di Persi è un attimo più breve di quello dell'America. And one other thing I'll add is that I think because economically things are very, very difficult all over the world, not only in America, but I do think that people tend to need some sense of escapism, you know, and a film like this is more about people wanting to see something that makes them forget about the world that they live in. And I'm, you know, I'm equally a big fan of films that deal with social issues and are relevant as well. But my job in those pictures, the thing I wanted to do was make a picture that people can escape in. And I think if Avatar is any sort of indication, people do want to immerse themselves in another world. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, dal momento che stiamo attraversando dei momenti difficilissimi dal punto di vista economico, questo non vale soltanto pensieri, ma vale per tutto il mondo, credo che la gente abbia questo desiderio, questa voglia di evasione, voglia quindi andare a vedere un film che fa loro dimenticare il mondo in cui vivono, la situazione in cui si trovano. E sebbene io sia una persona che è un fan e mi piacciono molto i film che affrontano questioni sociali, credo però che sia importante anche poter dare alle persone qualcosa che rappresenta un'evasione, una fuga, e in questo film il mio compito è esattamente quello, quello di aiutare le persone a dimenticare per un po'. E credo che se Avatar può essere un'indicazione di quello che la gente cerca, abbiamo un esempio. Grazie.